Buongiorno a tutti e benvenuti all'interno della consueta rubrica del giovedì, dedicata alle medaglie d'oro al valore militare ospitata su Erodoto TV, oggi vi narrerò del gesto eroico di Donato Briscese, nato nel 1918 a Venosa, provincia di Potenza, morto a 24 anni, caporal maggiore del primo battaglione secondo reggimento Genio Pontieri. Pontiere caposquadra mitraglieri, in aspro combattimento contro rilevanti forze, portava i dipendenti con ardita decisione all'attacco, infliggendo gravi perdite al nemico. Caduti alcuni serventi, benché ferito una prima volta, rimaneva al proprio posto, incitando i suoi uomini alla resistenza ed assicurando l'efficace fuoco dell'arma. Ferito una seconda volta, al capo da una scheggia di mortaio, cosciente della critica situazione per la grave minaccia nemica, rifiutava ogni cura e continuava audacemente la lotta. Rimasta l'arma inutilizzabile, si poneva la testa dei superstiti e cercava ancora di arrestare il nemico con lancio di bombe a mano, finché colpito a morte da raffiga di mitragliatrice, immolava la propria vita, fiero di avere contrastato il passo al nemico, prodigandosi oltre gli umani limiti del dovere. Nikolaevka, fronte russo, 20 febbraio 1942. E come di consueto, dopo avervi narrato il gesto eroico di Donato Briscese, darò lettura ora dei cenni biografici afferenti alla vita dell'eroe. Di modesta famiglia di agricoltori, fu chiamato alle armi il 30 marzo 1939 ed assegnato al secondo reggimento Pontieri. Mobilitato nel giugno 1940 col primo battaglione Pontieri dell'Armata del Po partecipò alle operazioni di guerra svoltesi sul fronte occidentale. Trattenuto le armi e promosso caporale il 20 luglio 1941 partiva col battaglione per la Russia. Caporal Maggiore il 16 gennaio 1942 fu nominato caposquadra mitraglieri. E data lettura dei cenni biografici della vita dell'eroe Donato Briscese, ci tenevo ora a fornirvi delle indicazioni in merito alla celeberrima battaglia di Nikolaevka che si è svolta il 26 gennaio del 1943 e che ha visto impegnate tragicamente le forze dell'asse contro quelle dell'armata rossa. Le forze dell'asse già duramente provate poiché in rotta ormai dal Don, forze dell'asse composte da truppe italiane, in particolare dalle divisioni della Iulia e della Tridentina, da Alpini, quindi le truppe germaniche, fino anche delle truppe di nazionalità ungherese. In questa tragica ritirata, come dicevo, vengono accerchiate a Tenaglia nei pressi di Nikolaevka proprio e sostanzialmente da circa 60.000 uomini riusciranno a rompere questa Tenaglia, questo accerchiamento e a proseguire in questa tragica ritirata circa 13.000 uomini. In merito a questa battaglia, su cui sostanzialmente non mi dilungo troppo, vi segnalo il libro di Mario Rigoni Stern, che poi è un'autobiografia, un grande scrittore militare alpino che ha combattuto questa battaglia, sostanzialmente il suo libro più famoso che è Sergente nella neve. In combinato disposto potete visionare un documentario presente su YouTube, di cui vi lascio il link in sovraimpressione, dove viene intervistato proprio Mario Rigoni Stern come testimone vivente ed oculare della battaglia che poi di fatto Rigoni Stern ha combattuto. Il nostro viaggio invece finisce qui, io vi do appuntamento a giovedì prossimo, il mio saluto è esteso sempre con quello di Enzo, iscrivetevi al canale, lasciateci un like e fateci sapere nei commenti cosa ne pensate. Un abbraccio e un augurio di buona giornata da Mario. Ciao!